La storia di Almer McCarty ha dell'assurdo, pare una leggenda metropolitana, eppure è una storia realmente accaduta. Almer McCarty fu ucciso da un sottoposto dello sceriffo sul confine tra Oklahoma e Kansas nel 1911 a causa di una rapina al treno che gli aveva fruttato 46 dollari e due damigiani di whisky. Essendo un ubriacone e un fallito, nessuno reclamò la sarma. Il coroner locale, nel frattempo, ebbe l'idea di esibire il suo cadavere. Lo fece imbalsalare e, al costo di 5 centesimi per persona, i visitatori potevano osservarlo da vicino. Però, per pagare questi 5 centesimi, dovevano farli scivolare fra le labbra del morto. Per i primi anni, McCarty è stato in piedi in un angolo dell'obitorio, finché due impresari di un lunapar si fissero suoi fratelli e reclamarono il corpo. Saltiamo ora al 1976, quando una trou televisiva del programma The Six Million Dollar Man stava effettuando delle riprese nel parco dei divertimenti di Pike a Long Beach, in California. All'interno dell'attrazione della Casa dei Fantasmi, un membro della trou, per errore, urtò un manichino e staccò un braccio, rivelando al suo interno ossa umane. I proprietari dell'attrazione restarono sconvolti, dato che erano i primi ad essere convinti che si trattava semplicemente di un manichino. La realistica mummia era in realtà, l'avrete già capito, il vecchio Emmer, la cui storia fu poi ricostruita a ritroso fra fiere parchi di divertimento Luna Park, un passaggio di mano in mano del macabro accessorio di scena protratosi per così tanto tempo, cinque decadi, da far scordare la sua vera origine. Si dice anche che quando fu finalmente seppellito nel 1977 in Oklahoma, venne versato una colata di cemento sulla sua bara, per impedire che qualcuno lucrasse ancora sul povero colpo di Elmer McCardy.